quando si piazza cadono sempre dei truccioli e quando si leviga si forma sempre della polvere in effetti quando si lavora si produce sporcizie ma non sarebbe bello se la polvere scomparisse ogni tipo di lavoro produce polvere ma non tutte le polveri sono uguali anzi ce ne sono varie tipologie un tipo di polvere sgradevole ma non pericolosa e per esempio quella domestica invece sono nocive le polveri di stupo di calcestruzzo e di legno altre sono cancerogene come le polveri di amianto di lana di vetro o muffe per evitare di respirarli offriamo la miglior soluzione un aspiratore speciale per ogni tipologia di polvere così tutti i pericoli vengono aspirati via la polvere viene aspirata proprio dove si forma e una volta entrata nell'aspiratore non rischi più di respirarla in più grazie all'aspirazione hai una buona visuale sul lavoro da svolgere e sei sia più rapido che più preciso con gli aspiratori Festool sei anche tutelato a norma di legge non importa quale sia il tipo di lavoro che stai svolgendo grazie a Festool mantieni puliti sia i tuoi utensili sia l'ambiente in cui lavori ovunque tu sia perché più è pulito più la tua salute è preservata